Stiamo chiedendo io e la collega Lopresti una riqualificazione della Galleria Vettore Emanuele, la possibilità di istituire un tavolo tecnico e di creare un regolamento fatto ad hoc, proprio di gestione della Galleria Vettore Emanuele, creare e istituire eventualmente un'associazione, un comitato fra commercianti e proprietari degli immobili per creare questo regolamento che possa permettere una maggiore vivibilità di chi ci abita là dentro, di chi è proprietario degli immobili e naturalmente di continuare a permettere ai titolari e ai gestori dei locali di poter continuare a svolgere la propria attività lavorativa e di poter continuare a svolgere un'attività all'interno della Galleria che comunque è necessaria, ma un regolamento che possa permettere anche di poter fare mostre, attività culturali all'interno della Galleria. Ricordiamoci che le Gallerie Vettore Emanuele ne esistono soltanto tre in Italia, a Milano, a Napoli e a Messina. Messina è la più piccola ma è la più maltrattata.